Alla trentesima edizione di Rada Primavera nel quartiere filistico riminese ospite anche Filippo Bisciglia che ha appena chiuso un'annata televisiva molto importante per lui con il successo del reality Temptation Island e del talent dedicato alle imitazioni canore, tale quale show. Sì, guarda, quest'anno io lo dico anche a tantissime altre persone, è stata un'annata speciale per me, finito Temptation Island che era la mia quarta edizione, la mia quarta conduzione, anzi ragazzi tra poco rinizio Temptation Island, quindi tra due mesi tutti collegati che ci saremo nuovamente e subito dopo mi è partita questa fantastica opportunità di partecipare a tale quale, sono felicissimo, è andata molto bene e mi ha dato l'opportunità di far conoscere al pubblico anche altre sfaccettature di Filippo che magari non conoscevano, annata bellissima. Che cos'è dunque per te il gioco? Ma il gioco, io prendo un po' la vita come un gioco, con il sorriso, quindi è molto importante questa parola gioco. Certo, in questo momento storico è un po' difficile perché ci sono tantissime persone che si trovano in difficoltà, io sono uno di quelli fortunati in questo momento, però ecco anche quando lo ero meno cercavo sempre con un sorriso di alleviare le giornate un po' più particolari, dai, diciamo così. Grazie